Eccola che arriva! Salve! Lei è l'insegnante della Quinta D? Sì, sono io. Beh, posso fare una domanda, una curiosità? Ma lei ha già visto Disney Club? Sì, parecchie volte. È così tranquilla, affronta la tortura così, in tranquillità. Sono un po' incosciente. Eh, un po' incosciente, si, lo vedo anch'io. È vero? Sì, prego, si accomodi. Allora, un attimo, solenne, è arrivato il momento della promessa. Metta la mano sinistra sul libro, alzi la destra. Promette sull'elemente che qualsiasi cosa accadrà, anche la più tremenda, non si vendicherà mai, mai e poi mai sui suoi studenti? Lo prometto. Ragazzi, l'ha promesso che si chiuda l'albero della tortura. Valentina, vai con le domande. Che cos'è in testa, paperina? Un fiocco. Un fiocco? Ha in testa un fiocco. Preparata. Buona, no. No! Anche perché qui i nostri ragazzi stanno trepidando per poter versare gli ingredienti nella grande zucca, dove verranno aspirati attraverso il tubone aspira sbobba, fin su in cima, per poi precipitare sulla testa della nostra insegnante. Allora, tu cosa hai scelto? Ragni in panna acida. Ragni in panna acida, fai vedere come versi, così da contenta. Valentina, vai con l'altra domanda. Come si chiama? Prello. Anche questa, sa, ragazzi. Però, due ne ha sbagliate, quindi noi la dobbiamo torturare. Cara maestra, mi dispiace. Quindi un bel assaggino prima della tortura. Parta! Parta la tortura! Via! 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 Tra torturata! Anzi, continua ad essere torturata! Tra torturata! È sempre meglio questa tortura ragazzi! Allora noi, vediamo subito il nostro appuntamento! Ci vediamo, stavato prossimo alle 15.45! Un'altra domanda! Via! In finzione! Ciao! 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 Grazie per la visione!